Avrà il suo museo, lo vedete, queste sono immagini molto belle di questo museo che è stato inaugurato ieri all'interno dello Juventus Stadium, museo che vuole essere un luogo dove i tifosi juventini possono riassaporare nella storia di vittorie sconfitte, all'interno della Sala Coppa e spazi dedicati ai grandi campioni, come vedete, della storia juventina con un focus particolare per i palloni d'oro e spazi, anche all'ultima strepitosa stagione degli uomini di Conte con alcune immagini diventate ormai storica, è una Juventus che è condannata a vincere, come ha detto il Presidente Andrea Agnelli e che domenica affronterà in finale allo Stadio Olimpico di Roma, in finale di Coppa Italia, il Napoli.